Momento valigia, per noi donne è sempre imbarazzante per il quantitativo di cose che ci dobbiamo portare Ma che sia mai che poi arriviamo là e vogliamo metterci quella cosa che non abbiamo portato Di calze ne porto un'abbondanza, ho fatto una scelta tra le My Circle Silhouette 30 denari velate nere Quelle glitter con i pois e i pois quelli grossi che sono in microfibra E ti faccio vedere dei look che ho pensato di indossare Come prima opzione ho pensato di rivisitare lo smoking maschile in chiave moderna sotto messo un reggiseno gioiello Abbinandolo a una scarpa in plexi argento e alle My Secret Silhouette 30 denari che sono super eleganti La calza velata di Golden Lady sta bene anche con i sandali È proprio tanto tanto comoda Io lo trovo carino questo outfit Adesso ti faccio vedere come però lo possiamo sdramatizzare e renderlo non da sera ma di giorno Cambiando la calza e il sopra